ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo una puntata dedicata alle vostre collezioni eccoci qua con un altro episodio dedicato a voi che state guardando e soprattutto ai vostri orologi che diventano i protagonisti della serie come partecipare ormai lo sapete perché vedete anche le informazioni in sovraimpressione che vi indicano tutti i passi da seguire chiaramente cercate di realizzare i video in orizzontale e spigliati con un audio decente insomma un po di frizzantezza ci vuole oggi non ho voglia di fare troppi discorsi vi mostro subito l'orologio del giorno che è il mio bellissimo edox idrosub un bellissimo diver da 42 mm di diametro cassa con la forma a cuscino quadrante blu sfere arancioni è un orologio che d'estate utilizzo spesso e d'inverno un po meno perché devo dare spazio anche agli altri orologi che litigano per poter salire sul mio polso loro litigano e quindi io devo decidere dare un po la priorità però ogni tanto anche lui lo indosso e però lui è più estivo è più estivo è un diver d'altronde è quello che deve fare la sua funzione quella primo video con l'indice primo video ciao davidone ciao un ragazzo di 37 anni 37 anni e cominciamo qua a guardare un po che la saga delle tovaglie qua c'erano i gufi stilizzati i gufi i gufetti i gufetti a volte ci sono i gattini a volte ci sono le candele i gufetti siamo messi così ha iniziato la sua collezione a febbraio ho iniziato con il mio primo orologio o ma buonasera o buongiorno a tutti quanti ovviamente chi ha patirà ciuffetti con questo sector 960 non si può guardare pagato pochissimo è meno male movimento nh 70 nulla di eccezionale così come non sono nulla di eccezionali i miei orologi ma sono i miei e sono belli per me certo per l'amor del cielo e questo è veramente molto è stato il primo corona vite e fondello in zaffero addirittura un vetro zaffero mentre sopra è minerale come poi un orologio c'è sotto c'è il vetro zaffero e sul quadrante c'è il vetro minerale ma mamma 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 la concezione quelle che non si deve graffiare no quindi la parte che ha contatto con il polso che non si graffiera mai perché ha contatto con il polso è in zaffero invece quella che sul quadrante che puoi prendere gli urti è in vetro minerale sono furbi è sono furbi è sempre se mi hai detto la verità perché mi vengono anche i dubbi ma forse perché forse perché hai letto sapphire crystal qua sotto al quadrante al fondello ma significa che sopra è sapphire crystal non sotto e nulla nh 70 che deriva ovviamente dall nh 35 solamente che essendo scheletrato evidentemente qualcosa qualche rifinitura in più anche se nulla di eccezionale ovviamente il mio primo orologio il mio secondo orologio 4 quindi faremo una cosa velocissima ma il bulova automatic questo movimento 82 s7 che non ha lo scappamento indiretto perché hanno messo direttamente i secondi lì dove doveva stare a ok quindi l'alto di 4 ore il quadrante è veramente molto bello sì perché questo calibro qua praticamente l'otto 2s bla 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 è come l nh 70 cioè è la versione del calibro 8000 di miota realizzato per essere messo a vista capito c'ha i punti un pochino più scheletrati no scavati per per far vedere è giustamente il discorso che hai fatto te che i secondi questo calibro qua ha la particolarità di avere i secondi indiretti e quando è al centro la lancetta è perché ce la riportano con un ingranaggio in più e per quello che a volte zoppica perché quell'ingranaggio lì la molletta fa fatica in questo caso perfettamente hanno messo la sfera secondi lì dove c'è la ruota dei secondi quindi è imperniata sulla ruota direttamente eh niente ma così tanto tanto per dire però è brutto ce l'aveva anche piero questo orologio qua mi sembra o simile un open heart così della bulova piace specialmente alla luce del sole adesso faremo una cosa veloce perché con uno tengo l'orologio ovviamente vabbè non c'è nulla da vedere riguardo al fondello sempre movimento miota quindi nulla di eccezionale ma non per devo dire che tiene bene il tempo meno male le gambe con le mani tiene il tempo poi andiamo al secondo mi chiedici al terzo che questo qua l'altro bellissimo veramente è un bulova scheleton movimento 8 n 26 siamo sempre su una serie miota e sempre rimila poi in base a quello a quello che che è lo scheletrato in base a quello che è la tipologia d'orologio vanno a cambiare i nomi sono tutti solo tempo questo è bellissimo perché agli indici dorati rosè sembra no sembra sono proprio rosè è fatto veramente bene e il cinturino dei brogiant a farfallo ovviamente anche quell'altro lo aveva questo vera vedi molto bello il quadrante ovviamente mi piaceranno perché i miei sono tutti scheletrati tranne appunto l'automatic di prima questo è stato il terzo orologio mi piace veramente molto meno male al sole è veramente spettacolare diametro 43 un pochettino più grande mentre questo ha un diametro di circa 41 42 sta sempre lì e poi andiamo all'ultimo che ho acquistato l'uffetto intanto ha perso l'occhio gonfia affezionatissimo la marca bulova il surveyor bulova questo è classico movimento 8 2 1 5 nulla assolutamente di eccezionale ma veramente bello a questo questo triangolino qui veramente eccezionale da vedere adesso non sembra però al polso si nota molto di più va bene e niente questa è la mia la mia collezione ma si tutti scheletrati come potrei vedere bravo poi vabbè io avevo ho messo qui anche l'orlogio di mia mamma che non c'è più carino è un 6 che lo devo sempre e questo è stato il mio primo regalo che ha fatto la mia che mi ha fatto la mia fidanzata è il cronotec un vetrino a prisma e purtroppo però ha avuto con una botta ha perso l'indice vedi qui nel dia non c'è più la lancetta a botta al quarzo non l'ho poi un mattone ma buttano via quanta millimetri di diametro non lo uso praticamente a buttare io non ci riesco questo video la mia ragazza non lo vedrà mai quindi meno male apposto così va bene questi sono i miei orologi tutti i bolova prossimo acquisto l'orient 70s neo revival con quadrante champagne degradé champagne champagne non mi piacciono scheletrati e manca proprio uno con un quadrante ti ringrazio davide per il video quindi nulla di eccezionale un saluto a tutti gli utenti ciao 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 mamma mia proprio quattro una collezione composta da quattro orologi della tipologia che io a borro come dice mughini a borro non mi piacciono gli open arti scheletrati non mi piacciono ora voglio dire se mi mettete davanti uno scheletrato di quelli da 70 mila euro con il calibro di manifattura tutto rinfinito realizzato appositamente per quella cassa e mi viene una bavetta anche a me in quel caso lì sì ma in questi casi qua così proprio veramente junk come dicono gli americani spazzatura per me per me spazzatura questo tipo di orologio qua così scheletrato poi sempre quattro orologi quattro orologi con lo stesso calibro uno dice anche spazio un pochino no il primo c'ha l'nh70 se mi sbaglio vabbè però tre miota vabbè niente dai non ti posso promuovere io guarda ce l'ho messa tutta ma dall'alto mi dicono che non posso fare non posso fare magheggi quindi devi tornare a settembre c'è poco da fare aspettiamo speranzosi mi piglia anche la tristezza prossimo video ciao davide sono lorenzo lorenzo ti faccio questo breve video della mia collezione vai la mia passione per gli orologi è una passione molto recente ho iniziato solo quest'anno ad acquistare orologi bravo e ad appassionarmi al mondo dell'orologeria seguo il tuo canale tantissimi complimenti grazie però pubblicherà il mio video vediamo allora iniziamo col primo pezzo mi è stato a febbraio marzo di quest'anno non ricordo bene allora sentire ha fatto una premessa che hai iniziato quest'anno a a comprare orologi e a fare a collezionare orologi mi parti con il brightling super ocean mi allora proprio cioè hai disponibilità economica a go go no e parti col piede giusto perché qua non ti si può dire niente top a un top questo qua bellissimo orologio brightling super ocean e lo hai recensito anche tu quindi non credo ci sia molto da dire di questo orologio eh no lo indosso sempre con piacere anche se ho il poesino un po piccolo da 16 e mezzo però questo da 42 essendo un diver non stona un diver deve essere grande basta con questi discorsi di orologi piccoli va bene secondo acquisto di quest'estate a giugno barra luglio ho acquistato questo corvo top preso ispirazione dal video in cui ho visto il tuo solo che io adoro i braccialati quindi bello ad acquistare orologi con il bracciale bravo acquistato da pasquali domenici viva pasquali domenici viva 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 e l'ultimo pezzo è arrivato al 30 di agosto acquistato questo rolex dayjust da 36 mm tutto acciaio so che tanti storcono il naso sulla lunetta bombata anziché zigrinata però io il dayjust lo preferisco così e in più mi è piaciuto molto il quadrante ho avuto la fortuna di trovarlo disponibile e l'ho acquistato bravo un saluto e grazie un saluto e grazie continuo così ciao 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 no il discorso della della lunetta liscia va bene col bracciale oyster così è perfetta soprattutto sul 36 no me lo rende anche un pochino più armonioso il 36 con la lunetta liscia bello bello assai poi se preferì io preferisco quella zigrinata al momento ho avuto anche quello con la lunetta liscia però ciò che mi sorprende che mi colpisce di te è che hai iniziato quest'anno e già hai preso tre orologioni come si deve senza andare a passare per un qualche cinesata strana o c'è chiaramente c'è anche la disponibilità però uno potrebbe anche rimanere forviato no andare a prendere uno uno scheletto un open art qualcosa di particolarmente invece tutte scelte mirate e ti faccio i complimenti promosso te sei promosso da bravo ciao davide ciao ti mando un saluto anche se preferiscono dire il mio nome perché anche è vero che questi orologi sono dovuti andare un attimo a prendere in banca quelli là più costosi però sempre meglio non far sapere troppe cose le persone sono anche un po' invidiose le persone sono anche un po' invidiose uno che non dice il nome di battesimo perché ha paura di farsi riconoscere ma se mi dici francesco ma quanti quanti francesco cioè oppure no senza stare a fare tutta sta manfrina qua mi ti inventavi un nome mi chiamo silvia mi chiamo silvia e noi ce ne sbattevamo ma almeno non facevi tutta questa premessa che tra l'altro ti mette ancora più in cattiva luce perché dicono ah questo qua ha paura comunque un saluto a tutti gli amici del canale porto subito qualche orologietto così giusto per un mauris watch al quarzo non mi dare il ciofeca alert perché dai è carino con la luna e le stelle però ti dico la verità lo tengo all'inizio solo per esercitarmi io ti dico che potevi dire anche il nome il cognome e l'indirizzo perché se gli orologi sono così vai tranquillo che non ci viene nessuno a casa tua a bussarti e dirti dammi l'orologio vai tranquillo scrivi pure il nome e il cognome cambiare i cinturini poi passiamo con un super ciofeca alert perché in realtà non lo volevo far vedere però è talmente brutto che merita di essere visto questo braille ma proprio di una cosa io non lo so come fanno perché comprate questi orologi questo è un regalo perché li comprate per 150 200 euro c'è molto di meglio basta informarsi un po' avete internet adesso poi c'è un orologio già che ha un po' più di senso altro quarzo un timex expedition questo era l'orologio da lavoro di mio nonno che poi mi ha regalato il pezzo migliore della mia collezione anche lui era un appassionato andiamo con un citizen aqualand carino bello arriveranno gli automatici non vi preoccupate però questo c'è da dire che ha il suo stile questo profondimetro visto che ci piacciono le cose complicate visto che facciamo le immersioni ci serve il profondimetro no? comunque molto bello con il suo cinturino niente da dire poi questo è un orologio dalla doppia B io dico cioè da battaglia a batteria questo pagari by citizen niente di che vabbè allora l'oggetto lo uso per andare all'università niente di che ah allora si questo è bello comprato in una gialleria in sgombero davvero un'occasionissima sgombero? anche perché ancora più occasione perché tra l'altro è immacolato ancora non l'ho mai messo questo è sporco ancora più occasione perché era uscito col cinturino difettoso suo che non avevano tra l'altro neanche più quindi l'ho preso davvero a un prezzo stracciato questi numeri arabi e questo quadrante che riflette in un modo fantastico la luce la perlina qui perlina un bello orologio perlina col datario fa il suo veramente molto bello fa il suo non l'aveva ancora detto nessuno oggi sempre nella stessa gialleria sulla falsa riva di questo sempre un'altra occasione questa ancora più occasione secondo me un glissin combat sub un altro glissin 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 non so come si pronuncia il combat sub questo è fantastico dovrebbe essere un'edizione limitata tanto come vedi ha la particolarità del quadrante che dal blu scuro scuro arriva fino ad essere più chiaro a simulare l'oceano molto bello secondo i colori tutti azzeccati dal cinturino alle lancette a questo bronzo perché è un full bronzo bello bello quindi non è full è un bronzo e basta tra l'altro ancora la sua pellicola perché questo non è mai stato polsato 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 ma come minchia li utilizzate i verbi della lingua italiana non esiste il verbo polsare non è mai stato indossato non è mai stato utilizzato non ha mai avuto il piacere di salire sul polso di qualcuno polsato non esiste non si può dire altrimenti cosa eh la cravatta eh questa non è mai stata cravattata questa oppure la bicicletta non è mai stata culata la bicicletta allora che la facciamo? ci inventiamo i verbi così a pippo di cocco? eh no eh perfetto ancora perché in realtà penso di venderlo per finanziare uno squale l'ho comprato solo perché era davvero un'occasione era un peccato non prenderlo va bene però è davvero bellissimo questo qui fantastico concordo e poi passiamo a un altro orologino serio questo è il mio ultimo acquisto un Hamilton bello scuba navi promosso questo è il vecchio modello ma comprato a marzo 2023 comprato il secondo polso ma con ancora le sue pellicole e la garanzia attiva con il datario qui tra le 16 e le 17 e gli indici rettangolari appunto lo faccio notare semplicemente perché il nuovo modello che tra l'altro non mi piace che non ha più il datario ma non mi piace soprattutto perché perché il datario posso capire che possa non piacere qui tra le 16 e le 17 ma il nuovo modello non mi piace perché hanno tolto la particolarità di questi indici rettangolari che secondo me lo rendevano veramente uno sportivo con il suo stile con il suo marchio secondo me hanno fatto un errore a toglierli passiamo a un altro orologio cos'è? questo qui è un regalo di mio padre boh che gli avevano regalato a sua volta questo è bello perché più che altro ha ancora tutti i documenti cazzo è del 95 questo orologio qui c'è la data di acquisto secondo me è molto bello è un dress watch da 34 mm in oro secondo me è davvero carino ha una bella portabilità per il mio polso molto piccolo massimo sarà un 17 perché l'ultima volta l'ho misurato era tipo 16-8 ma io non lo so saranno i riflessi ma come oro lo vedo quasi che si sta consumando sei sicuro che è in oro? boh poi cos'è? vabbè qualcosa del genere quindi davvero un polso piccolo però a me calza molto bene calza molto bene poi volevo mostrarti un orologio perché secondo me ti piace molto questo in realtà non è il mio di mio padre mi dispiace solo che non si vede bene il colore del quadrante sotto questa luce sembra nero in realtà è un blu molto scuro solo che il vetro non fa rispecchiare quasi niente niente molto bello questi vc questo è il dress watch di mio padre perché ha una concezione tutta sua degli orologi cioè che devono essere giganti oltraleggibili niente molto bello ho questo cinturino una bestia così questo è davvero un grande orologio grande in tutto e per tutto perché peserà 10 kg è un pilot deve essere grande non è il mio stile assolutamente ma nemmeno il mio poi ultimo ma assolutamente non ultimo per importanza attenzione penso che sia l'orologio a cui sono più affezionato in assoluto me l'ha regalato mio nonno per i miei 18 anni sono passati degli anni e infatti comunque c'è qualche segnetto anche se questa luce evidenzia qualsiasi tipo di difetto me l'ha regalato per i miei 18 anni dopo che aveva subito un brutto evento con questo orologio avevano provato a rapinarlo in mezzo alla strada e questo in realtà è stato il primo e unico orologio che di valore vero che ha acquistato mio nonno perché mio nonno era più un accumulatore che un collezionista comprava qualsiasi tipo di orologio anche quelli da da 3 euro perché li amava e basta e gli piaceva e li prendeva quando compro questo poi subì questo evento e si rese conto di essere un po' troppo vecchio e di non potersi più difendere come faceva prima tant'è vero che è riuscita a scamparla veramente per poco questa rapina ed è stato una specie di passaggiette Simone e ora che non c'è più come vedete che non c'è più mio nonno come vedete l'orologio è usato comunque perché l'ho messo a tutte le esperienze più belle della mia vita perché questo orologio merita di vivere merita di uscire fuori e di essere visto per ciò che è e per ciò che rappresenta per me bravo molto bello ciao Davide grazie per l'occasione scusami se mi sono dilungato va bene dai buona vita buona vita ora capiamo perché non voleva mettersi dire il suo nome perché il nonno avevano tentato di rapinarlo quindi è rimasto diciamo un pochino così colpito da quella situazione lì e lui cerca di prevenire ma è lo stesso se ti dici che ti chiami Roberto e vai avanti dicendo le tue cose nel video nessuno sa chi è Roberto tanto più se magari te lo inventi veramente il nome senza fare comunque dai sei promosso gli orologi ci sono bello questo qua questo Explorer 2 qua finale che è la referenza che mi piace maggiormente voglio dire se dovessi però torniamo sempre al solito discorso c'è da spenderci tanti soldi per un orologio degli anni 2000 e io non ce la faccio a spenderli se per assurdo invece fosse ancora in produzione un pensierino ce lo farei su Explorer 2 40 mm in quella configurazione lì quello di adesso è un po' troppo bold come dicono gli americani cioè sfrontato comunque dai sei promosso prossimo video ciao davide ciao pietro un saluto amici del canale sono Giovanni della Sicilia Sicilia i miei orologi non ho usato orologi per gran parte della mia vita diciamo da quando sono arrivati i telefonini l'utilità dell'orologio non la sentivo più i vari sguocci e settore sono finiti nel cassetto sono recentemente al lavoro ho bisogno diciamo di un orologio per controllare il tempo e ho preso i miei primi due quarzoni quarzoni questo tisso pfc 200 200 metri in problemabilità crono una batteria molto bene usavo praticamente ogni giorno poi poi questo altro tisso tss in questo 100 metri sempre a batteria usavo un po' di meno diciamo più sportivo sportivo comunque soddisfatto dalla qualità del tisso passi anche se la batteria poi circa un anno fa ho cominciato a vedere i video sugli orologi automatici mi sono appassionato ho visto anche i tuoi video bravo ho preso un poco della foca avevo scoperto il sito dust forse mi sono fatto un poco abbindolare eh sì e ho preso questo orologio ublast ho pagato veramente poco comunque 200 euro circa e sono orologi da catalogo che fanno in serie il fonometro un marchetto sopra li trovi marchiati ublast poi li trovi marchiati tecnotempo o altre robe così no sono un po' un po' così senza artene parte sono orologi assemblati per essere venduti a basso prezzo in quantità enorme e incassare i soldi basta l'orologio che praticamente la copia di un rolex anche se ha le menti diciamo forse di modelli diversi rolex è un 300 metri vero l'aspetto il tatto sembra diciamo molto solido e monta un 6 con nh35 ho visto che sempre sul sito d'asta c'è un altro brand sempre italiano che fanno gli stessi orologi praticamente sembra solo che cambia il quadrante e poi gli altri dettagli siano cambiati ma io ero fondamentalmente cassa e il resto siano gli stessi orologi da catalogo potrebbero essere quello che tu hai definito assemblatori con questo logico ho fatto i miei primi errori da principiante cambiavo la data quando era vicino alla mezzanotte oppure lo regolavo mentre l'aveva a polso sto accendo un po' la corona inizio diciamo a tenereva bene il tempo adesso mi sono accorto che poi è circa 5 minuti avanti al giorno 5 minuti avanti al giorno mamma mia questo ho pagato un poco di più poco meno di 400 euro è un 45 millimetri con pvd gold forse un poco caffoncello però a me piace molto piacciono gli orologi grandi infatti sono tutti dai 40 45 mm a parte vintage e monta un'età va giù 70 50 molto preciso devo dire circa 6 secondi al giorno molto molto soddisfatto comunque da questo orologio per caso la chiusura farfalla che non permette una regolazione accurata a polso io non so mercury qua cosa sia cosa non sia però se 400 euro un cronografo con età 77 50 così mi dici te è preso beh è preso hai fatto un bel acquisto è al di là che fa cagare come orologio perché così 45 millimetri placato oro intorno però diciamo 400 euro io avrei spesi in altro modo è cioè ovunque ovunque meno che un orologio di però vabbè dai 17 centimetri comunque poi diciamo cominciato a diventare un po colpi esperto però non ho resistito davanti alla vetrina quando ho visto curiosa oggi mi piace tantissimo certo è capitato anche questo molto preciso in romani 12 difetti di questo orologio secondo me sono nella vista evitabile forse dovete risparmiare qualche millimetro sullo spessore e la mancanza del fermo macchina che è una cosa che mi urta abbastanza però per considerato il prezzo è ma anche lì certi escono con il fermo macchina cioè si ferma la lancetta dei secondi con l'estrazione della corona è un po a caso cioè non è nemmeno da data a data mettono dei miotto a calibro 8000 alcuni con il fermo macchina alcuni senza fermo macchina cioè si capisce all'oroggio eccezionale poi ho preso questo edo nord si 1978 edizione speciale commemorativo di una versione fatta 320 metri nel mare ghiacciato della norvegia quello che loro chiamano the inverse landing e monta un sellito sv200 un 43 mm con un digestimento anche questo pvd non so se il movimento è una versione basso della borè penso sia basso è arrivato con due cinturini questo marrone e uno antracite che ancora non ho usato questo qua non lo so il mio certificato cronometro quindi c'è il sellito sv200 top grade poi certificato cronometro cosque questo qua e dici 43 ma è lo stesso modello ma penso di sì allora 43 anche questo mi confondo io non lo so molto soddisfatto non è complesso anche questo molto preciso questo poi ho deciso di prendere due orologi usati bravi due psycho prima questo psycho ricraft 40 mm quindi a progetti forma si sente si vede al polso mi piaceva molto questo colore soprattutto con la combinazione con questo cinturino aftermarket bravo ho visto braccialato e cobracciare sinceramente non mi dava lo stesso effetto pagato poco monta un movimento e sette s 26 settesimo dal visto inutile non ha nel fermo macchina né la carica manuale forse la carica manuale mi fa la mancanza di carica manuale fa investire ancora di più perché non sbagliare l'orologio sceglieranno proprio il massimo è arrivato quando io non ero a casa l'ho visto dopo sette giorni circa mi sono accorto che va 10 minuti avanti 10 minuti avanti arrivato dalla turchia turchia loro dicevano più o meno 15 secondi era passato il tempo per fare il reclamo e niente dovrò portarlo aggiustare questo ora te dici che ti dà fastidio il fatto della carica manuale che non ci sia e devi shakerarlo io il 7 s 26 che poi non so se era successo i secco 5 questo qua non è un secco 5 comunque nel mio skx che ha 7 s 26 cosa faccio quando so che lo voglio indossare per un certo periodo la prima cosa che faccio è lo prendo lo metto nella scatola del tempo tolla via la scatola del tempo e per pochino anche se fosse solo mezz'ora o si carica tramite il movimento della rotazione della scatola del tempo senza che faccio così e poi lo metto al polso dopo mi devo muovere devo stare attento per farlo caricare in una maniera quasi naturale piuttosto che shakerarlo e poi dice la macchina del tempo non serve a me mi serve torna utile la macchina del tempo poi quello che è arrivato dalla turchia quando uno dice turchia india questi posti qua mi vengono sempre mente gli accrocchino quindi 7 s 26 ma che ne so io invece l'ho preso da taiwan condizioni veramente ottima un buon prezzo l'ho pagato che questo rivestimento pvd mi piaceva molto la doppia corona psycho prospects field master modello preciso non lo ricordo come tutti quelli sei che sono impossibile ricordare si parla della circa 15 seconda giorno mi piace molto anche cinturina in tessuto ma sono molto contento bravo infine i miei due vintage il primo orologio mi ha ricevuto per la crescima d'oro a batteria e non sono sentito di venderlo però a me al polso non piaceva montava questo coccodrillo cinturino in coccodrillo ma non mi piaceva comunque quindi è stato riadattato abbiamo messo un gendorino in ricercato la blu adesso l'uso mia compagna oggi ho preso per fare questo video mi sono accorto che la batteria ci ha abbandonati abbandonati perché la batteria è tua nemica la batteria è fin garda quando meno te lo aspetti ti abbandona hai capito visto la tua compagna ce l'aveva che me lo lasci per fare il video si tieni e lei la batteria appena si è accorta che è sceso da un polso ha cessato di esistere sono così le batterie gli ingranaggi no gli ingranaggi continuano ti salvano in a questo era di mio padre l'ascito in bulova ambasador 30 rubini oro microrotore anche questo è l'oro ciò poi il cinturino aftermarket cambiato di recente anche perché è stato revisionato come pulito completamente delle foto del movimento ho fatto delle ricerche questo movimento pure 12 ed ac veniva usato su davanti d'altrame sono due forniva probabilmente tante meson e poi nel 71 è stata acquisita da emilton che gli ha fatto che ha derivato da questo movimento il famoso intramatic davide correggimi se ho sbagliato qualche cosa questo è lo stato della mia collezione per il mio prossimo compleanno vorrei prendere qualcosa di migliore e sono indeciso tra tag oier carriera e oppure libera acqua date grand tale saluto a te e amici del canale no un salutone un salutone ora mi dispiace anche direto ma quei due orologi lì d'oro hanno valore affettivo no uno per la comunione l'altro il valore dell'oro fuso è maggiore del valore dell'orologio e se così com'è chiaramente te te li tieni perché sono un valore effettivo e viva e viva il discorso lì del calibro intramatica non l'ho capito non sono a conoscenza di un calibro che si chiami di un calibro emilton che si chiami intramatica mi sfugge mi sono che un po' ignorante diciamo la verità poi la scelta tra il carrera e l'eberhard e cosa vuoi che ti dico lì le scelte sono personali sono due marchi due orologi estremamente top diciamo calibri di fornitura su entrambi io sinceramente ho più ma ecco una questione personale l'eberhard c'è i numeri anche arabi un po troppo classico il carrera lì l'ho recensito quello da 39 è veramente mi sembra che ha definito l'alternativa al de chest per dire come sta bene al polso e non per contenuti ma per come sta bene al polso io piglierei il carrera va bene prossimo video ciao davide sono graziano grazia nostro pure io la mia piccola collezione di orologi e te mostro diamo da quello del giorno che è il casetto storico niente di che niente di che e poi passiamo ai lasciti ai lasciti questo era l'ultimo orologio de nonno di zaneko drive al titanio carino da carino come orologio ma simpatico 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 a diametro cassa 45 mm mi bello consistente però c'è un polso da 19 quindi allora ma più che bene sì ma sta cosa della grandezza del polso in base alla grandezza dell'orologio o viceversa non è che ha sempre questa ragione di esistere cioè gli orologi piccoli compatti stanno bene anche sui polsi grandi gli orologi grandi stanno bene sui polsi piccoli nel momento in cui devono essere grandi come fosse un fligger come un diver come fosse un anche un cronografo un orologio elegante così sportivo eggiante così sarebbe meglio un po piccolo secondo me è questo regalo che mi piacerebbe la comunione di zen br100 action 2000 che poi io non l'ho messo più l'ha sempre indossato papà che non c'è sta più in gesto in imbe ricordi passiamo avanti metti da posto dopo no sempre di nonno questo da taschino arnex 17 rubini anti shock molto ma qua c'è qualcosa che non va amico mio è cioè un orologio da tasca e sono famosi per avere calibri da tasca che sono grandi così giganti qua hanno fatto una crocchietto perché si vede chiaramente che ferma un movimento è un lamierino piegato adattato in stile campo rom lo vedi e ci hanno messo dentro un calibro di un orologio da polso tutto bello è come mettere il cotone idrofilo inzepparlo tutto lo inzeppi poi chiudi e ti vendo l'orologio a tasca hai capito è andata così mi sa molto piccolo ma pure questo ricordo quindi io teniamo e teniamo però ciofeca poi passiamo a questo polio 8 bravo edizione limitata mi piacciono edizioni limitati perché sono diciamo più particolari delle altre si distinguono certo niente perché calibro 31 33 simpatico simpaticissimo poi questa marca qui che svizzera cimier indici applicati 41 di diametro cassa una pressione loggata e monta dentro un movimento eta 28 24 2 con il pondello a vista bravo eccolo qua simpatico se sai qualcosa di più resto marchio per fortuna no che su internet c'è la storia ma una bella storia fine 1924 sono non sapevo nasce sta casa e allora 7 simpatico orologio placato in oro rosa in pvd questo poi passiamo al bulova lunar pilot edizione limitata del cinquantesimo anniversario bello questo bravo anche questo quarzo simpatico corso simpatico cassa in titanio classe 5 molto simpatico molto simpatico dietro al fondello ma è lo stesso non ce lo farò vedere no dai lascia stare no bello però l'ho mino nella dicitura pollo 15 simpatico orologio par quasi che sono andati sulla luna poi passiamo al top almeno il top della collezione mia che è questo qua bello mi trovo l'interno edizione limitata quella in versione italiana non mi faceva impazzire la colorazione che o meglio come si dice la la gradazione di azzurro che hanno usato quindi ho optato per questa edizione limitata da germania bravo a germania più sobrio simpatica va luccicoso ma bello certo è così che deve essere il tribute e questo questa è la mia collezione gli orologi poi poi cosa una collezione a parte a parte che sicuramente ricorderai ricorderò ancora col cartellino dell'epoca willer vetta willer vetta quarzoni che a me non dispiacciono ed ecco in qua mamma mia e willer vetta challenge con tutte le loro colorazioni di quadrante ah c'hai tutti i modi tutti questo blu scuro argento pensa a te tutte braccialate perché mi piacciono i bracciali non me la ricordavo mica perché me l'avevi già fatta vedere colorazione nero del dial è argento cioè praticamente c'hai tutti i quarzoni dello stesso modello in configurazione differente non me la ricordavo strano eh però si vede che il design è quello datato vecchio eh stantio come si suol dire stantio poi abbiamo questa un'altra colorazione del blu più chiaro dorada dorada simpatico eh simpatico corona a pressione ah ah tutti quanti dentro monta un movimento a età 251 262 a 27 rubini comunque ah quasi fatti veramente bene ok 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 e poi questo qui cos'è? che è un solo tempo però sempre col dial diciamo piramidale come gli altri il dial ma quello di pari però questo è un solo tempo pure questo c'è un movimento è da dentro a sette rubini bello sto qua e questo questa è la mia collezione e spero ti mandate a presto un altro video ciao magico love magico magico love non vedo l'ora che mi mandi un altro video guarda allora l'ultimo villervetta quello lì al quarto non cronografo il solo tempo e pensavo che se lo rifacessero in versione automatica un pochino più aggeggiato meglio con delle sfere un pochino con più compatto un diametro decente potrebbe avere successo come orologio sportivo eh perché mi piaceva come stile come andamento per il resto cosa abbiamo visto? degli orologi si belli carini simpatici per la maggior parte simpatici e più che belli simpatici niente dai aspetto con ansia il tuo prossimo video perché non se ne può fare a meno dai buh ragazzi mi sembra di aver detto tutto eh spero vi siano piaciuti i video e vi ringrazio per essere arrivati fino qua con me a guardarli insomma ci siamo fatti un po' la cultura no? qualcosa abbiamo scoperto qualche dubbio mi è rimasto per i dubbi vi rimando i commenti sotto così me li togliete perché anch'io non è che sono onnisciente no? anzi non sono proprio una minchia però ci proviamo vi ricordo gli appuntamenti fissi che sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love a presto a presto